Prima la protesta in piazza, poi la riunione con il sindaco Enzo Voce. A Crotone hanno manifestato davanti il palazzo comunale una ventina di lavoratori di Acrea, società partecipata al 100% dall'ente locale, che si occupa della raccolta della nettezza urbana. Qualcuno ha detto per un lieve ritardo nei pagamenti dei stipendi, qualcun altro per la carenza dei mezzi. Incontro a porte chiuse per un'oretta per confrontarsi e poi un veloce commento di uno dei rappresentanti sindacali. Noi chiedevamo, siamo venuti per perdere gli stipendi, ma era una scusa, ma siamo venuti per chiedere la differenziata, per chiedere i mezzi, per chiedere tutta la problematica che Acrea ha da tanti anni. E lui ci ha assicurato che col passare del tempo mette un po' a regime tutta la problematica di rifiuti differenziata e dolce. Dal canto suo l'amministrazione comunale di Acrea si sta occupando ormai da tempo. L'amministrazione a voce vuole scommettere su Acrea, per cui è quello che sto facendo e sto lavorando per questo. Devo mettere in condizione Acrea però di svolgere il servizio della raccolta differenziata, perché in questo modo non può farlo. Abbiamo dimostrato però che, soprattutto Acrea ha dimostrato che quando i cittadini vedono i cumuli di rifiuti per strada, non è un problema di Acrea o dei lavoratori di Acrea, è un problema di conferimento di quel materiale. Cioè i rifiuti restano per strada quando abbiamo problemi a conferirli all'impianto TMB. Su Acrea nei giorni scorsi il Comune ha inteso vederci chiaro in relazione ai bilanci dell'azienda presentati negli anni scorsi, tant'è che Rossella Parise, in passato vicequestore della Polizia di Stato e da qualche mese vice sindaco e assessore alla legalità, ha inteso rivolgersi direttamente alla Guardia di Finanza. Quello che mi ha colpito è che la gestione non era finalizzata allo svolgimento del servizio, quindi gli acquisti non erano finalizzati al miglioramento di questa gestione dei servizi, cioè raccolta rifiuti e igiene della città, ma verso degli acquisti che non arricchivano la città, nel senso che l'ultimo compattatore risalga al 2006, l'acquisto dell'ultimo compattatore, mentre nel 2019 sono state comprate autovetture.